E' molto divertente, mi sono divertito da matti a vedere la confusione che si fa quando si prova uno spettacolo, che bello, questo invece è lo spettacolo. Questo sì, lo immagino è lo spettacolo, poi lo vedremo meglio. Cosa ricordate con piacere e cosa rimuovete del periodo delle prove? Io non rimuoverei nulla, certo rivedere quel momento mi ha riportato alla fase più faticosa, più dolorosa anche per un attore delle prove, perché la preparazione dello spettacolo è come un viaggio, è veramente un viaggio dentro di sé, un viaggio anche però fuori di sé, perché si tratta di incontrarsi con altre persone, relazioni con attori, quindi relazioni sia umane sia professionali, relazioni con il regista, con tutti i collaboratori eccetera, però è un viaggio anche dentro se stessi, viaggio dentro se stessi che parte con un entusiasmo iniziale, le prove a tavolino sono sempre entusiasmanti perché si scava, si cerca, si trova, si discute, si analizza, si rompe anche a volte il capello in quattro, però i risultati poi arrivano. Poi c'è quel momento che è un po' come una malattia per l'attore, che è il momento in cui dal tavolino si passa sul palcoscenico e improvvisamente c'è un primo momento che dura a volte appunto giorni, a volte settimane, in cui l'attore si sente completamente perso. C'è un autore, posso dirvi anche chi è, Roberto Sturno, che una volta a proposito di questo discorso mi ha detto ogni volta è come reimparare a camminare. Assolutamente d'accordo, io dico che ogni volta che si sale sul palcoscenico, nonostante faccio questo lavoro da più di 30 anni, ogni volta che salgo sul palcoscenico è come la prima volta, come se fosse la prima volta in cui ci salgo. Federico Tiezzi, leggo una frase che non è mia, poi dico di chi è, il teatro è una di quelle attività artistiche che non si fanno da soli ma con altre persone, questo comporta ogni volta il tentativo di creare una piccola città ideale, un luogo in cui la discussione sia aperta e libera. O è di Sandro, Lombardi o di Streller? È di Sandro. Ah, è completamente bene, ce l'avevo indovinato, perché così è. E si tratta di creare questa fusione delle anime, io credo che oltre al rapporto spaziale, ritmico dei corpi ci sia la fusione delle anime che deve arrivare nel calderone del palcoscenico, nella caldaia del palcoscenico, affinché gli attori possano bruciare insieme al testo o anzi fare del testo combustibile per la loro recitazione, come se fosse il loro carbone, il loro materiale da fuoco, affinché possa avvenire sulla scena una cosa che si chiama rogo amoroso. Molto bello come immagine, però mi chiedevo questo e le chiedevo, ma questa idea, questa visione di città ideale, di piccola città ideale, un po' l'utopia di Thomas More, è effettivamente realizzabile in teatro? Sì, 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 assolutamente. Vi vedo convintissimi? Sì, non sempre, ma spesso si tende... In una battuta, qual è l'ingrediente necessario perché questo accada? Gli esseri umani? Gli esseri umani, sì. Gli esseri umani, la disponibilità, la generosità degli esseri umani, anche la capacità di non aver paura di guardare dentro se stessi, non aver paura di mettersi in contatto con qualcuno che è diverso da sé e che è portatore appunto di tutte quelle cose che poi mandano in crisi i registi, perché dicono ora poi arrivano gli attori con i loro problemi. In realtà i problemi degli attori sono... Sono grandi stimoli possono essere. Sì, sono i problemi degli esseri umani che si pongono di fronte a un compito di comprensione, quindi non credo che sia solo un problema tecnico d'attore quello che l'attore si pone, insomma. Passiamo a una fase successiva, quella dopo la messa in scena. Cioè avete debuttato ovviamente e adesso vedremo un filmato in cui abbiamo provato a sintetizzare, come io usualmente dico, attraverso un montaggio delle emozioni, un po' il risultato. Ovviamente senza nessuna pretesa di esaurire il discorso, soprattutto con l'indito esplicito e assolutamente inequivocabile di vedere lo spettacolo a teatro, perché è solo lì che può essere vissuto. Noi possiamo solo evocare qualcosa.